Come sta cambiando il giornalismo? Cosa sta diventando anche in Toscana? Non solo in Toscana, il giornalismo sta diventando una rincorsa della notizia, una rincorsa dei social, dei siti, eccetera. E questo, se vogliamo, è l'errore. Tu sei stato con me, hai seguito con me anche qualche politico. Beh, io l'ho ricordato recentemente, perché quando è morto Ciriaco De Mita, all'epoca io lavoravo per quello che era il giornale, tra l'altro, della democrazia cristiana, era il popolo, e mi trovai con due colleghi, allora di agenzie, in una visita che De Mita fece a Coltano. Mentre andava via, uno dei colleghi disse, Presidente, ma lei che fa, torna a Roma? E Ciriaco De Mita si fermò, si voltò e ci guardò e disse, sì, vado a dimettermi. Ecco, quella frase che poi successe davvero, cioè De Mita, il pomeriggio, si dimise da Presidente del Consiglio. Io, giovane corrispondente del popolo, mi trovai a gestire una situazione, che per fortuna poi mi aiutarono chiaramente da Roma a gestire, ma i colleghi delle agenzie dovettero andare a cercare un telefono a 4 km di distanza, perché non c'era telefono dove eravamo, per dettare la notizia. Grazie.